Ciao a tutti e benvenuti ad Anteprima Cinema. Vediamo le news di oggi. Arriverà nelle sale il prossimo 21 maggio il film Piacere sono un po' incinta. Il tema del film è uno dei più attuali, l'inseminazione artificiale. Piacere sono un po' incinta fa un po' da sequel a film come The Buster e Baby Mama. Problemi di distribuzione per il nuovo film di Robert Rodriguez, Macete. Dovevano essere sei le case di produzione interessate, tra cui Sony, Warner Bros. e Fox. Ma dall'iniziale entusiasmo qualcosa deve essersi rotto. Sono iniziate le riprese del film La Scomparsa di Patò, diretto da Rocco Mortelliti. Il film ambientato in Sicilia è detratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri. La pellicola ha ottenuto i contributi del Ministero per i beni e le attività culturali. Vi lascio con il trailer di oggi. È davvero buono vedere. Oh god, that's awesome. That's for me. Thank you. You're welcome. So, how long have you two been dating? No, we're not together or anything. Like, she's just, we're really good friends. Yeah. Oh. My parents are trying to rent it out in my room. So, you should just stay at our place. Hi. Hi. Sweet dreams. I think we almost kissed, but we didn't. I don't really know what you're asking. You haven't had any seizures since last August, correct? Are you mad at me? Why would I be mad at you? Why would I be mad at you? Why would I be mad at you? E questo è tutto, vi aspettiamo numerosi con le prossime novità cinematografiche, a presto! Grazie a tutti!